Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale YouTube. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi effettivamente vi fa piacere, vi ricordo che per voi è assolutamente gratuito. Per me è molto importante perché così mi permettete di crescere qui su YouTube. E vi va quindi di iscrivervi al mio canale, compare da questa parte la campanellina e ricordatevi di andare ad evidenziarla alla voce tutta. Così man mano che io metto online i video, puntualmente dovrebbe arrivarvi la notifica. Non so, visto il periodo difficile, triste anche, che sto attraversando con... che frequenza fino a questo mese, probabilmente anche tutto il mese di giugno. Non so nemmeno come andrà a luglio. Riuscirò a caricare video qui su YouTube. È una cosa che comunque amo molto fare. Ormai sono un bel po' di anni che sono qui sul canale, qui insomma su YouTube. E quindi insomma, diciamo che quando riesco, quando anche sì, effettivamente un pochino di testa in questo periodo, per poterlo fare, carico un video, ma non so, ahimè, fare previsioni. Ringrazio tutte le persone che in questo momento, in qualche modo, mi sono vicine. Allora, visto tante cose, e proprio perché non solo guardare una certa tipologia di video, in un certo senso ASMR, mi fa stare bene, in generale, in questo periodo ancora di più, anche girarli e quindi poi il video proseguirà in, tra virgolette, ASMR. O diciamo, non avendo io nemmeno un microfono, con una modalità che in qualche modo ricalca certe modalità ASMR. Quindi, giustamente, perché invece, a differenza di me, non trova nessun tipo di conforto nella vita dall'SMR, ci tenevo comunque, insomma, ad avvertire della cosa. E ora iniziamo. Allora, un prodotto di Balea, che probabilmente nel tempo è stato anche, molto riformulato, o hanno cambiato il pack, in ogni caso, questo è un tonico ai fiori di mandorlo, per pelli secche e sensibili, ed è assolutamente senza alcol. Questi, tra l'altro, sono 200 ml. A volte, i flacconi di tonico possono contenere anche una minore quantità di prodotto. Forse, con un pack diverso, forse l'ho già mostrato sul canale, anche poi, Balea ci confonde un pochino anche un pochino anche le idee. Dovrebbe costare 1,19 euro, 1,29 euro. E, assolutamente, se lo trovate negli store fisici di Balea, o anche online, dove non ho idea di che prezzi si possono trovare, però, ripeto, per questo ci tenevo a dare un'indicazione, io ve lo stra, stra consiglio. Certo, è un tonico, passatemi il tempo, molto, molto basico. Però, se siete alla ricerca di un prodotto delicato, senza alcol, che vada a dare quella sensazione di freschezza, di pelle, di pelle in cui l'idratazione naturale della pelle viene mantenuta in un accoccolo, qualcosa di lievemente nemitivo. Questo tonico potrebbe piacere molto, naturalmente, e la nostra pelle è imprevedibile, e nel momento in cui si vanno ad applicare dei prodotti, soprattutto se sono dei prodotti non a risciacquo, e a differenza dell'acqua minicellare, il tonico non va a risciacquato. Certo, si potrebbero avere reazioni di iper sensibilizzazione, io questo lo sottolineo e lo risottolineo, ma può succedere a chiunque, sempre e comunque, e non sta ad indicare che, in generale, il prodotto che stiamo utilizzando non è valido. Ok, 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 ok. Passiamo. Ok, questa penso che si sia vista, anzi, magari facciamo così, ok. Questa crema qui penso che si sia vista molto questo youtube anche chi non ha un canale youtube perchè effettivamente io la prima volta l'ho vista da mia sorella che lo sta sui social è un prodotto molto amato crema in olio con olio di argan e profumo cilicia molto carino, molto molto bello anche il disegno questa è una crema lo segnalo qui che comunque contiene la 40% di oli effettivamente non contiene l'olio di girasole un altro olio di cui non sono sicura va a contenere l'estratto di cilicia l'olio di argan il profumo questi sono 200 ml di prodotto e questa è una crema che negli store fisici costa 1 euro e 99 quindi prezzo che mi sento di definire veramente veramente ottimo molto piacevole da massaggiare anche la componente una cosa si percepisce ma è proprio scivola delicatamente e deliziosamente sulla nostra pelle fa pochissima scia bianca la profumazione di ciliegia si percepisce ma è estremamente estremamente delicata molto molto carina anche come idea regalo potrebbe forse risultare un po' leggera per alcune pelli piuttosto secche qui è da un attimino valutare molto molto carina anche come crema appunto per eseguire un piccolo massaggio sul corpo e sento anche la profumazione molto molto soft e secondo me che comunque amo anche profumazioni più strong e decise c'è comunque meno il rischio 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 che poi questa profumazione possa andando avanti con l'utilizzo del prodotto stufare altra versione di una crema comunque abbastanza simile anche se poi magari andando a guardare in città delle nuove creme qualche differenza effettivamente c'è allora in questo caso con olio di mandorle e profumo di noci di marula marula non so esattamente dove cade l'accento allora la texture è molto simile a quella della crema che vi ho mostrato anche prima anche questa mi sa che è una crema che si è vista molto sui social e non stesso prezzo per stessa quantità di prodotto 200 ml a 1 euro e 99 profumazione anche in questo caso molto molto soft e delicata che ricorda un pochino ma ripeto in maniera molto più smorzata la profumazione argan di perbolario e un pochino anche la profumazione di ip rocce avena e grano saraceno diciamo un misto di caramellamo gelato alla nocciola gelato albaccio in un certo senso si sente anche un lievissimo sentore di luce essendo molto molto delicata è perfetta anche per queste giornate lievemente più calde lievemente primaverili anche qui penso che essendo la profumazione molto 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 soft non ci sia poi il rischio come per l'altra versione che la profumazione possa col tempo stufare o risultare più stucchevole fatemi poi tra l'altro si sapere se effettivamente ma penso che almeno di vista già conoscerate questi prodotti di palea allora anche questo è probabilmente un prodottino che come pack è cambiato non so se è stato anche modificato negli anni linci e se appunto magari con un pack un po' diverso ho mostrato già proprio nel corso degli anni sul canale in ogni caso questo è un olio struccante con olio di argan che viene consigliato per pelli secche io non ho una pelle particolarmente secca anzi la mia non ha il il discorso del sebo in eccesso anche quando è caldo impazza ma comunque la mia è una pelle tendenzialmente mista non lo uso per rimuovere il make up occhi perché io magari lo sto ripetendo per la miliardesima volta ma per rimuovere il make up occhi io uso e riuso esclusivamente uno struccante piglio basico quindi lo utilizzo solo come primo step di struccaggio per andare poi appunto a rimuovere il make up viso e mi ci trovo benissimo anche la profumazione perché nell'incisi comunque come primo ingrediente c'è l'olio di girasole non da quell'idea di olio per friggere perché comunque è abbastanza smorzata io assolutamente il suo lo fa non lascia la pelle dopo non so se magari con una pelle dove appunto è molto presente il sebo possa accadere questo si potrebbe succedere ma non mi va a lasciare nella pelle unta né una sensazione di pelle che tira ma mi lascia la pelle pulita e compatta e qui tra l'altro me ne basta una pochissima quantità me ne basta pochissimo quindi una quantità veramente irrisoria e mi dura lungo nel tempo per 100 ml di prodotto è sempre appunto negli stori fisici perchè io non ho mai avuto l'esigenza di dover acquistare online da dem il prezzo è di 3 euro e 49 naturalmente di strastra 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 consiglio 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 di dargli una chance poi altro giro altro struccaggio e non so se è già tornato disponibile da dem italia questo invece è un buon struccante con il trend 100 di scuola non mi ricordo mai come si dice esattamente la parola allora qua siamo con 100 sempre 100 ml di prodotto io questo fisicamente non lo avevo trovato da dem italia adesso so che aspettano che venga riassordito anzi se qualcuno già lo conosce e ha la possibilità rispetto a me di andare più spesso da dem perché non ce l'ho distante ma nemmeno ahimè così vicino a casa mi faccio sapere se magari nei prossimi giorni ha la possibilità di ritrovarlo perché vorrei rifarne scorta allora questo io l'ho pagato 4,69 o 4,99 comunque insomma magari in linea di massima poi quei 50 60 centesimi poi di differenza ma potrebbe essere anche questo il prezzo da dem italia anche qui lo vado ad usare in alternativa all'olio come primo 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 step di struccaggio struccaggio per andare a rimuovere il make up del viso ed è fantastico morbido avvolgente secca la pelle non va a lasciarla unita è una vera coccola l'unica cosa è che magari se con l'olio di mio vado ad utilizzare pochissimo prodotto con il burro invece sono sempre 100 ml quindi stessa quantità potrei 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 rischiare di andare a usare un pochino di più e quindi forse in proporzione a me personalmente l'olio struccante dura di più allora ecco finita questa breve carrellata di questi 5 5 5 5 5 5 prodotti di vale vale a fatemi un pochino sapere se li conoscevate quale di questi vi è in qualche modo incuriosito se appunto acquistate online dallo shop di tem e come trovate in generale anche con i prezzi quanto sono poi diciamo simili a quelli dei negozi fisici io purtroppo non so quando riuscirò a registrare e caricare un altro video qui su youtube sono contenta intanto di esserci vanti sono un pochino di compagnia essere stati un po' insieme con questo video vi vado a lasciare poi anche i riferimenti agli altri miei social instagram instagram e tic toc tic toc dove in qualche modo anche in questo periodo per me è così triste e difficile riesco comunque ad essere un pochino più attiva io ringrazio a maggior ragione di nuovo tutte le persone che in qualche modo riescono 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 a dare vicine 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 firmando un bacio grande un altro un altro ancora e mi auguro il prima possibile spero che non abbiate sentito suonare il campanello al mio prossimo 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 video ciao 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 ciao